Ciao a tutti cari amici, ben trovati, ben trovati a questo appuntamento di Focus 3.0 e di Arcangeli, le stagioni e lo spirito di Michele, ecco, ciao a tutti, grazie a Anna Tamburini-Torre, grazie a Enrico Ballantini, grazie a questa opportunità di poter affacciarci a voi, incontrarvi e poter condividere quelli che sono i pensieri legati a questo periodo dell'anno così speciale, questo periodo dell'anno che forse ci porta infinite occasioni, diciamo, di poter metterci alla prova, poterci sentire più forti, poter prendere contatto con la nostra vera realtà interiore e trasmettere a tutta l'umanità un impulso fecondo che possa aiutare la fraternità e possa permetterci anche di salire a un livello superiore, ecco. Rispondo appunto a questa chiamata che mi ha fatto Anna Tamburini-Torre, questa grande, diciamo, anima che dedica tutta a se stessa per la ricerca spirituale e anche a Enrico che grazie alla sua completa e assoluta purezza ed edizione riesce a portare avanti in modo illustre, diciamo, questo canale di Focus 3.0, ecco. Sono stato invitato a parlare di questo periodo dell'anno, dell'equinozio di autunno e per fare questo noi dobbiamo partire da quelle che sono le gerarchie spirituali, perché molti si credono che gli angeli siano qualcosa di scollegato dalle stagioni, oppure non lo sanno neppure, però di fatto c'è una, potremmo dire, un legame fra questi esseri spirituali, che fanno parte, vedremo, delle gerarchie spirituali, e quelli che sono i ritmi delle stagioni. C'è un avvicendarsi di vite, che sono le vite degli esseri che vivono sulla Terra, ma sulla Terra non vivono soltanto esseri umani, sulla Terra vivono anche esseri che collaborano a creare la vita generale del pianeta. Questi esseri sono anche gli arcangeli. Gli arcangeli appartengono a una categoria speciale di esseri perché lavorano sia in complicità con l'angelo custodio umano, sia in complicità con gli esseri ancora superiori delle gerarchie. Ecco, per fare questo lavoro noi dobbiamo entrare in confidenza con un elemento che noi chiamiamo le gerarchie spirituali. Cosa sono le gerarchie spirituali? Quelle che la scienza chiama volgarmente, potremmo dire, scusate che è partita la musica, anche se la musica non fa mai male, ecco. Le gerarchie spirituali sono quell'insieme di forze che astrettamente nell'universo vengono chiamate le forze che gestiscono, potremmo dire, la spiritualità universale. La scienza ovviamente non ci parla di gerarchie spirituali, ci parla di forze astratte, che in qualche modo dirigono come una sorta di istinto, di intelligenza casuale, casuale vedremo che non lo è, tutto ciò che sulla terra si muove, pulsa, ha una forma e ha un'anima, ecco. È molto semplice, basta soltanto fare come facevano gli antichi greci, no? Cioè, nanziché immaginare che il tuono, il fulmine, sia un evento meteorologico assolutamente astratto che si genera per delle necessitudini che sono legati all'umidità, all'elettricità, immaginare che invece queste forme di espressione della natura siano invece governate da un'intelligenza. Un'intelligenza che non è umana, ma un'intelligenza che risiede nel trascendente. Quindi vi sono delle forze, che noi chiamiamo entità spirituali, la fisica le chiama forze della natura, che operano per governare questo mondo e per fare in modo che tutto possa muoversi in modo armonico. E queste forze conferiscono la vita, conferiscono l'ordinamento, la struttura proprio di tutto ciò che sulla terra è visibile. Ovviamente sono forze che sono invisibili e quindi non possiamo pensare che possiamo toccarle. Ecco, gli arcangeli anche loro appartengono a una determinata fascia, diciamo, di entità che dobbiamo cercare di imparare a conoscere. Per far questo noi dobbiamo immergerci in ciò che le tradizioni occulte chiamano la dottrina delle entità spirituali governanti nell'universo, che solitamente vengono chiamate angeli, ma angeli è un termine molto generico, perché angelo vuol dire messaggero. E questo messaggero non è nient'altro che una forza che fa da intermediario fra l'essere umano e ciò che è lo spirito dell'universo. Stasera non possiamo entrare in merito di parlare di che cos'è lo spirito dell'universo, perché dovremmo entrare in un elemento che forse a qualcuno può anche sembrare scomodo, però in realtà stiamo parlando di un essere che governa tutto l'universo e ha come corpo, come anima, altri esseri. Quindi se noi immaginiamo un sistema solare, una dialattia, la quale costituisce un corpo vero e proprio di un essere che ha un'intelligenza e la quale struttura ogni vita all'interno, diciamo, di questa galassia, ci siamo fatti una rappresentazione più o meno giusta di quello che nelle tradizioni e nelle religioni viene chiamato la divinità. Noi dobbiamo pensare che esiste un'intelligenza che ha creato tutto, che il mondo non si è creato per un caso, perché per caso non accade nulla. Se noi prendiamo una camera anacoica, anacoica, quindi vuota, sicuramente isolata, e mettiamo una provetta vuota e lasciamo lì per anni, secoli, millenni, non accadrà mai nulla. Deve entrare in scena un agente. Quindi il caso è un agente che reagisce nei confronti di una realtà, ma finché il caso non si mette in moto, non succede niente. Ecco, un mio amico diceva che il caso è il nome comunista di Dio, il nome laico di Dio, perché di fatto si attribuisce alla casualità e a un essere che forse è troppo grande per poterlo afferrare, e lo si chiama vulgarmente caso. Ecco, secondo la scienza spirituale di Rudolf Steiner, a cui io faccio riferimento, il caso è quella entità spirituale che ha la capacità di governare l'universo, ovviamente ha una sua logica non razionale, non mentale, non ha niente a che fare con l'uomo. Questa divinità, queste gerarchie non hanno una mente umana, non pensano come l'uomo, non hanno un corpo umano. Ecco, sono entità che potremmo dire hanno, forse anche loro, attraversato il mondo in umano, hanno sperimentato una coscienza simile a quella umana, ma ora si trovano al di sopra, così come noi dovremmo aspirare a andare al di sopra di tutto questo e ci riusciremo, ecco. Ecco, queste gerarchie spirituali, dove troviamo noi queste citazioni di questi arcangeli, questi angeli? Li troviamo in un discepolo dell'Apostolo Paolo che si chiama Dionigi Lareopagita, e lui ha scritto questo testo che si chiama La gerarchia celeste, in cui si spiega chi sono gli angeli, chi sono gli arcangeli, che tipo di entità sono, se è possibile entrare in contatto con loro, se sono esseri intellegibili, esseri materiali o esseri spirituali. E se stasera siamo qui un po' per prendere confidenza. Ecco, vedete, per esempio, qua abbiamo i nostri sette pianeti, le sette sfere celesti, no? Ecco, noi già dobbiamo pensare che nel nostro piccolo sistema solare, che è infinitesimo rispetto a quello che è la grandezza di una galassia o dell'universo, no? Però se noi già ci mettiamo e ci caliamo all'interno del sistema solare, possiamo vedere che già qui abitano delle forme di esistenza, che qualcuno se le piace può anche immaginare che siano forme extraterrestri, però non hanno astronavi, non vanno in giro a prelevare degli individui e gli inientano delle soluzioni oppure, diciamo, non c'è nessuna abdaccio, ma sono esseri che governano la vita sulla Terra. Io non sto dicendo che non esistono forme di vita extraterrestri, queste sono forme di vita. Il problema sta nel fatto che la nostra limitatezza spesso non è in grado di spostarci a pensare che possono esistere delle forme di esistenza che necessariamente non possono essere umani. Quindi tutti questi angeli che vedete a lato, alla mia immagine, sono uomini, sono uomini con le ali, uomini più o meno potenti, però sono raffigurazioni umane. Ecco, gli arcangeli, gli angeli, i cherubini, i serafini non hanno niente a che fare con una rappresentazione umana. È una traduzione che noi facciamo di questi esseri in cui li vogliamo in qualche modo come interpretare il modo umano, però un angelo. Se vogliamo farci una similitudine di cos'è un angelo, è più giusto immaginare una colonna di fuoco alta 10 metri, larga 3, che pervade un essere umano. Quindi se noi avessimo una chiara leggenza e vediamo un essere umano che cammina, vedremmo una colonna di fuoco che lo avvolge, una colonna di luce, quello è il suo angelo personale. Non ha ali, non ha piume, ma è una forza, potremmo dire anche elettromagnetica, così come anche noi siamo esseri elettromagnetici rivestiti di carne, rivestiti di atomi. Ecco, l'angelo non ha bisogno di rivestirsi di carne, ma rimane nello stato assolutamente intellegibile. E ancora di più l'arcangelo, perché vedremo che l'arcangelo è una forma ancora più grande e superiore all'angelo. Ecco, in questi sette pianeti abitano già, vedete, delle forme di vita. Sul sole abbiamo delle entità, si chiamano, vedete, hanno dei nomi. Adesso io non ve li voglio centralizzare subito perché vorrei un attimo fare un percorso. Ecco, vediamo se riusciamo. Ecco, la tradizione cristiana appunto prende le mosse da questo Dianigi, Areopagita, come vi dicevo, e il quale era un disceppo di Paolo. Paolo è quello che ha scritto le lettere agli Efesini, le lettere ai Colossesi, quello che quando andavate o andate in chiesa vi annoia perché dice delle cose sembrerebbe addirittura molto maschiliste, invece in realtà era un iniziato e parlava con una terminologia assolutamente iniziata. Aveva una scuola all'interno, diciamo, di Atene e anche di tutte le confraternite che allora stavano nascendo e qui c'era anche Dianigi, l'Areopagita. Ecco. Allora, prima di tutto bisogna pensare che quando noi immaginiamo l'azione di una entità spirituale, noi non dobbiamo immaginare che abita su Venere, questo per esempio è Venere. Ecco, non è che lì ci abitano gli arcai principati, no. Qui c'è il sole, vedete, e questo è Venere che gira intorno al sole, crea un'elittica. Questa elittica circoscrive, potremmo dire, un uovo o un ovoide, vedete, che se noi immaginiamo proprio una sorta di sfera dove all'interno c'è il sole, ecco, il pallino gira intorno e praticamente, vedete, questo Venere gira intorno al sole e all'interno di questo uovo vi sono le entità che sono gli abitanti di Venere. Quindi gli abitanti di Venere non stanno a camminare sulla, non sono dei pedoni che camminano su Venere, ma vivono praticamente in quell'uovo enorme che ha per fuoco interno il sole. Questo vale per qualsiasi pianeta, per Mercurio, per gli esseri che vivono su Marte, su Giove, su Saturno. Abbiamo questa forma, diciamo, ecco, qui possiamo vederlo meglio. Vedete qua? Ogni sfera è un'abitazione di una gerarchia e quindi qui abbiamo, mentre gli uomini abitano sulla Terra, gli angeli abitano in questa sfera che circonda la Terra, gli arcangeli vivono in questa sfera di Mercurio che circonda la Terra e, come si potrebbe dire, gli altri esseri che adesso conosceremo, che sono per esempio le potestà, le virtù, le dominazioni, fino ad arrivare ai troni, i cherubini e i serafini abitano in pianeti esterni, i quali hanno tutta una rotazione globulare e come una sorta di grande matriosca all'interno vi è l'azione della Terra. Questo sistema che vedete qui è un sistema tolemaico, come questo, vedete. Tolemaico vuol dire che vi è la Terra all'interno del sistema, no? E qui c'è la Luna, c'è Mercurio, c'è Venere, c'è il Sole, c'è il Sole, c'è la Podestà. Ecco, tutto questo sistema che potrebbe sembrare errato, perché uno potrebbe dire, ma come? Ecco, se mi stai raccontando che la Terra è il centro del sistema, lo sappiamo da un sacco di secoli che Copernico ci ha detto che la Terra non è il centro del sistema, ma bensì è il Sole al centro del sistema, è vero. Però è anche vero che se noi guardiamo dalla Terra il movimento dei pianeti, vedete, tutto sembra girare intorno alla Terra, sorge e cala. Ecco, quello che noi vediamo dalla Terra è quello che fanno gli esseri spirituali nei nostri confronti, è l'azione spirituale. Cioè, quindi, quello che diceva Tolomeo si riferiva all'influsso che le gerarchie spirituali hanno nei confronti dell'uomo, quando l'essere dell'uomo è incarnato e quindi loro agiscono sulla Terra, potremmo dire. Quindi non è che Copernico si era sbagliato o Tolomeo si era sbagliato, entrambi dicono tutte e due delle cose che sono giuste. Soltanto che Copernico ci parla dal punto di vista fisico e Tolomeo ci parla dal punto di vista spirituale. Cioè, Tolomeo ci dice guarda che c'è tutta un'azione di esseri spirituali che dalla Luna creano un ovoide intorno alla Terra e lo permiano dei loro impulsi. Poi vi è un'altra gerarchia che si chiama Arcangeli in cui avvolge la Terra e li permia di su impulsi. E invece c'è un'altra tradizione in cui ci parla invece del movimento dei pianeti intorno al Sole che invece stabilisce, diciamo, potremmo dire, un'azione occulta che non è più visibile spiritualmente ma è fisica. Quindi Copernico ci parla del sistema solare dal punto di vista dei movimenti fisici e Tolomeo ci parla invece di quelli che sono i movimenti e le azioni delle gerarchie spirituali nei rapporti della Terra. Allora, vedete che ci sono questi nomi, serafini, cherubini, troni, dominazioni. Principalmente noi potremmo dire che ogni gerarchia ha una nomenclatura. Vedete che, per esempio, i serafini vengono chiamati anche gli spiriti ardenti. Hanno il cerchio di fuoco mobile e sono quelli che sono più vicini a Dio. È un cerchio veramente potente perché loro godono della contemplazione della divinità, quindi prendono gli ordini direttamente da Dio, ecco. I cherubini sono invece esseri pieni di scienza. Formano il secondo cerchio che, ed è la loro dimora, è proprio nelle stelle fisse nelle costellazioni. Girano molto velocemente, anche se sono esseri che, essendo a contatto con la divinità, seguono i vincoli d'amori che li portano a essere più simili a Dio. Poi, dopo, sui troni, invece, che sono entità che abitano su Saturno, erano chiamati seggi, no? E si dice che da lì vengono, come ordinate, le direttive dei serafini prese dalla trinità dei cherubini vengono consegnate ai troni e i troni, dopodiché, li riversano all'interno del sistema solare. Consegnano questi ordini nelle mani delle dominazioni, che abitano nel cielo di Giove, nelle mani delle virtù, che abitano nella zona di Marte, nelle mani delle potestà, che sono coloro che invece operano dal Sole. Queste che noi abbiamo nominato sono la prima gerarchia e la seconda. Ecco, la terza, la quale dovrebbe essere quella che ci interessa più stasera, è agente, soprattutto, potremmo dire dai pianeti più vicini alla Terra, da Mercurio, da Venere e dalla Luna. I principati, o arcai, sono quelli che, in qualche modo, lavorano da Venere e si occupano di poter dare degli impulsi alle civiltà, quindi non governano il singolo uomo o il popolo, ma in realtà danno un impulso che dura, potremmo dire secoli. Una determinata moda, non so, quando scoppia il rinascimento, scoppia l'illuminismo, non è che nasce perché un giorno a un certo punto uno vuole rinascere, un giorno vuole illuminarsi, no. Accade perché questi spiriti, questi principati, questo principio dei, infonde una determinata caratteristica a quell'epoca. Poi vi sono gli arcangeli che invece operano da Mercurio e sono legati ai popoli, ne parleremo meglio, quindi agiscono per trasmettere il loro influsso nel popolo e gli angeli invece sono custodi del singolo uomo. In che senso custodi? Mica perché gli evitano di carriere in un burrone. A noi pensiamo spesso che gli angeli servono per fare in modo di proteggerci dalle male fatte, invece gli angeli, potremmo dire, sono coloro che custodiscono il nostro destino, hanno nelle loro mani il libro della nostra storia terrestre e ci accompagnano agli incontri. Quindi quando avviene un incontro c'è sempre il nostro angelo che ci ha portato da quella persona, in quel luogo, quando avviene un déjà vu o qualcosa che viene particolare, il nostro angelo ci porta a un appuntamento di destino. Ecco, andiamo a vedere adesso che cosa possiamo vedere. Allora, prima di tutto, chi è che ci parla? Anche Dante stesso prende norma nella Divina Commedia dalla Gerarchia Celeste di Dionigi, Lario Pagite, vedete, parla della prima gerarchia dei serafini e dei cherubini e dei troni, ne parla del Paradiso. Poi parla della seconda gerarchia, sempre nel Paradiso, parla delle dominazioni, delle virtù e delle potestà. E infine parla della terza gerarchia dei principati, degli arcangeli e degli angeli. Quindi se volete andarmelo a vedere, andate a vedere il Paradiso, questo canto, che è il ventitresimo canto, e vedrete che traverete queste citazioni, ecco. Quindi Dante. E questo mondo che vi faccio vedere qua è proprio il mondo di Dante, cioè è quello che, in cui vi avevo mostrato, questa è una visione potremmo dire copernicana, perché qua abbiamo il Sole e tutti i pianeti che girano intorno. Questa invece è la visione tolemaica, che è anche quella di Dante. Vedete che qua vi è la Terra, in realtà la Terra sarebbe poi più sotto, qui c'è il Purgatorio, il Purgatorio si collega col primo cielo della Luna, il cielo di Mercurio, di Venere, di Sole, di Marte, di Giove, e in ogni, vedete, sfera, come vi ho detto prima, in ogni, diciamo, elemento della matrioska, perdonatemi se mi sembra un po' fuori luogo, però qui c'è la Terra che viene avvolta, vedete, da sette, otto, nove sfere, fino ad arrivare al cielo dello Zodiaco, che sono i Cherubini, il cielo cristallino, che sono i Serafini, e qua vi è il, potremmo dire, la figura universale della divinità, che è mostrata appunto nella Divina Commedia, ecco. noi potremmo dire che qua abbiamo l'immagine copernicana e là avevamo l'immagine invece. Ecco, qui se entriamo nei particolari, vediamo che la Terra è avvolta da un manto di angeli, e poi è avvolta da un manto di arcangeli, poi avvolta da un manto di arcai o principati, ecco. Sopra abbiamo le potestà, abbiamo le virtù, le dominazioni e i troni. Qui abbiamo, l'insieme, vedete, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove. Quindi quando andiamo dall'astrologo, in realtà l'astrologo, e adesso spero che tutti lo sappiano, gli astrologi in genere sì, non si parla di qualcosa di astratto, si parla delle forze di Giove, si parla delle forze di Mercurio, quindi si parla degli arcangeli, si parla delle virtù, si parla delle dominazioni, e sono forze che hanno a che fare con il nostro destino, sovrintendono, perché noi veniamo sulla Terra con una missione che è scritta nel nostro destino, certo, e ci sono queste forze che dalle periferie del cosmo ci conducono ad adempire, appunto, al nostro destino. Ecco. Questi esseri spesso vengono chiamati anche cori angelici, perché niente è più bello ed evidente di immaginare che vi sia una grande orchestra, perché la musica dà un senso come di grande armonia, no? Suonare tutti insieme e avere uno spartito a cui tutti facciamo riferimento, come angeli, come arcangeli, ognuno suona la sua parte, però lo spartito è lo stesso per tutti, tutti lo suonano con un grande entusiasmo, con una grande voglia, diciamo, di comunicare, perché tutti amano questa musica, e questo è lo spartito celeste della creazione del mondo, ecco. Altrove, vediamo un attimo, ci sono altri, qui vedete abbiamo ancora altri, ve la faccio vedere, perché casomai può essere utile a qualcuno, vedete qua ci sono tutti i nomi, qui ci sono i nomi e greci, vedete che hanno nomi diversi, serafini, cherubini, troni, chiriottetes, dynamis, exousiai o elohim, archangeloi, angeloi. Poi vedete che invece questo è il nome latino e i nomi italiani, queste sono invece le nomenclature che Steiner dà, Rudolf Steiner, agli spiriti dell'amore, serafini, questi sono i spiriti dell'armonia, i cherubini, spiriti della volontà sono i troni, spiriti della saggezza sono queste dominazioni, gli spiriti del movimento sono le dinamiche, spiriti della forma, della personalità, del fuoco e dei popoli, ecco. Ecco, una corrispondenza noi la possiamo trovare anche nelle dieci sefirot, questo è l'albero delle sefirot ebraiche e la stessa cosa ha a che fare, vedete, con le gerarchie. Noi potremmo dire che ogni sefirot, chi conosce la cabala sa di cosa sto parlando, si tratta di un albero composto di dieci sfere, ecco, nove sfere riguardano le gerarchie. La decima sfera, che è appunto quella del malcut, rappresenta l'uomo, vedete? I serafini sono questa sfera, la corona, poi abbiamo okma, i cherubini, poi la sapienza, binà, fino ad arrivare nello specifico, vedete, alla definizione, vedete che sono corona, sapienza, intelligenza, amore, giustizia, bellezza, eternità, maestà, fondamento, regno. E qua, questa decima sfera, malcut, è proprio l'uomo in divenire. Siamo noi, siamo noi che dovremmo diventare angeli, forse un giorno, ma non da morti, non è che quando uno muore diventa un angelo, no, magari, quando muore rimane ancora uomo, diventeremo angeli, ascenderemo al grado angelico quando saremo diventati nel cuore capace di vivere, non più pesando, misurando, ma avendo feducia, speranza e amore nel confronto di tutta l'umanità. Andiamo a vedere oltre. Ecco, qua vedete che ci sono anche altri riferimenti che si possono fare, ci si perderebbe, però vedete la combinazione di tutto quello che è ebraico si ritrova in tutte le tradizioni. Ecco, non pensiate che ci sia qualcuno che crede in un Dio diverso da quello in cui possiamo credere noi. Ognuno parla secondo gli impulsi del proprio popolo, secondo il proprio spirito, e crea, potremmo dire, uno spirito che è conforme al proprio spirito, quindi alla propria cultura. Ogni popolo ha una religione diversa, ha una spirituale diversa perché ha una tradizione diversa, ma gli angeli, gli arcangeli, le divinità sono le stesse per tutti, chiamate con nomi diversi, quindi non sentiamoci troppo di figli. Questa l'abbiamo già un po' vista. Ecco, qui è interessante come il ruolo che hanno queste entità, perché non tutti lo sappiamo, che per esempio noi non sappiamo che gli angeli collaborano e ispirano l'uomo singolo. Gli arcangeli ispirano le leggi, le intonazioni animiche ai vari popoli. Invece le arche ispirano popoli interi, potremmo dire continenti, e governano periodi, epoche di tempo. Le exousias, che sono anche le Elohim o potestà, lavorano in un altro ambito, mentre queste tre gerarchie, si potrebbe dire, che lavorano dentro l'uomo, quindi lavorano per operare una trasmutazione nella cultura, nel tessuto culturale e animico, pensante e umano, quindi all'interno dell'uomo, queste entità invece sono veri e propri creatori che operano proprio per generare la vita. Queste entità, exousia e dinami, schiriote, che fanno parte della seconda gerarchia, danno una forma conchiusa, delineata, danno vita, trasformazione a tutte le cose. Invece i troni, i cherubini e i serafini regolano l'armonia planetaria, la gravità, tutto ciò che è forza, istinto della natura viene gestita da questi esseri. Si possono dire tante cose, nel senso che adesso cerchiamo di andare invece nel nostro obiettivo di oggi, adesso io vi faccio scorrere perché ovviamente ci sono tante belle immagini in cui ci potremmo, ecco, però la terza gerarchia è quella che è più vicina a noi, opera attraverso gli arcai, abbiamo visto gli arcangeli e attraverso gli angeli. Questi spiriti hanno dei servitori che sono gli esseri elementari, vedete che gli ignomi hanno un legame con le arcai, le ondine con gli arcangeli, le sifidi con le salamandre, ecco, hanno uno stato di coscienza diverso, se vogliamo entrare in confidenza con l'angelo, noi dobbiamo cercare di osservare i nostri pensieri, perché quando noi pensiamo all'angelo, in realtà noi afferriamo per un lembo la veste del nostro angelo, nel nostro pensiero, anche in questo momento noi stiamo pensando, creiamo margini interiori, chiudiamo gli occhi e sentiamo i nostri pensieri, in realtà stiamo usando il corpo del nostro angelo, stiamo sentendo dei sentimenti, stiamo sentendo qualcosa all'interiore, questa interiorità invisibile, a quale noi forse non diamo un valore, in realtà è proprio un vero e proprio mondo interiore, ecco, che è legato agli angeli. Se andiamo oltre, dopo la luna, entriamo a un punto in contatto con gli arcangeli. Ecco, gli arcangeli sono, non sono solo tre, perché di solito noi ne conosciamo tre, no? E di solito conosciamo Michele, che è proprio lo spirito di questa stagione, conosciamo Raffaele e conosciamo Gabriele, ma c'è un quarto arcangelo che viene chiamato Uriele. Allora, noi dobbiamo immaginare che questi spiriti sono spiriti che non operano solo all'interno, diciamo, dell'aura terrestre, nell'uomo e nei popoli, ma operano anche nelle stagioni, in cui dobbiamo cercare di entrare un po' in confidenza, ecco. Allora, prima di tutto, immaginiamo che la Terra sia un essere vivente e come noi respiri. Cosa accade? Che quando noi respiriamo, la nostra respirazione si svolge in quattro momenti. Quando inspiriamo, tratteniamo il respiro, questo respiro viene trasformato, l'ossigeno entra nel sangue e produce vita, quindi abbiamo i polmoni pieni di ossigeno, ispirazione trattenuta, poi abbiamo una espirazione e polmoni vuoti, quindi una fase, polmoni pieni, seconda fase, espirazione, terza fase, polmoni vuoti, quarta fase. Ecco, la stessa cosa si può dire della Terra. La Terra inspira lo spirito, la vita dal cosmo, in autunno. Ecco, in questo momento la Terra sta come assorbendo piano piano dalla periferia del cosmo la vita che si sta come mobilitando all'interno della Terra, sta come la Terra si sta riempiendo di spirito. Quello che noi sentiamo in questo periodo, perché è un periodo dell'anno in cui è particolare l'autunno, l'equinozio di autunno è un momento in cui si fa un po' fatica a centrarci, perché sentiamo l'influsso di qualcosa che sta cambiando, no? Certo, si accorciano i giorni, diventa più fresco, c'è meno luce, e c'è la tendenza a sentire che lo spirito della Terra in autunno sia anche un po' ansioso, crei anche un po' di depressione. In realtà noi ci stiamo riempiendo di spirito. Questo spirito entra in noi, ma è così potente che opera, opererà, vedrete, perché adesso poi vi spiegherò come opererà. Questa ispirazione in realtà è qualcosa che ci riempie dentro di spirito, ma riempie anche la Terra di spirito. Quindi noi non possiamo pensare che accada qualcosa fuori ed accade solo fuori. Cioè cadono le foglie e noi non c'entriamo nulla. Arriva la neve, arriva la primavera, arrivano i fiori, arriva l'estate e noi non c'entriamo nulla. Accidenti, ma noi siamo esseri della natura. Cioè non è che la natura è un oggetto. Cioè noi siamo parte della natura e quindi quando noi parliamo con la natura dobbiamo parlare di noi stessi, perché la natura non è qualcosa che è fuori. La natura è un elemento di cui noi facciamo parte. Quindi quello che accade fuori cade anche dentro. Solo che dentro di noi non cadono le foglie. Dentro di noi non arriva la neve o il freddo. Però ci sono dei processi che avvengono dentro di noi. Quindi se vi sentite strani, se vi sentite come se ci fosse una malattia che vi sta arrivando, non preoccupatevi, perché così come cambia la stagione cambia anche l'uomo. Noi non possiamo pensare che tutti gli esseri della natura sono legati alle stagioni e noi no. No, ma noi siamo indipendenti. Cioè anche noi siamo parte della natura. Quindi se il lavoro che stasera sto proponendo è cercare di diventare coscienti che i ritmi della natura devono anche essere i nostri. Cioè noi dobbiamo conoscere che ci sono esseri che lavorano per fare in modo che noi prendiamo coscienza di tutte queste realtà, prima di tutto, e lavoriamo in modo consapevole, interagiamo con questi esseri sapendo che loro sono noi. Allora se adesso parliamo dell'autunno, parliamo di uno spirito che viene chiamato Michele, no? Michele è l'arcangelo reggitore dell'autunno. È l'arcangelo che porta le massime forze di volontà, il massimo spirito. Lo prende dalle costellazioni, dai suoi amici cherubini, serafini, prende le forze e le porta verso la terra in modo che noi ispiriamo spirito. E questo è il momento migliore per cominciare a fare progetti, per cominciare a pensare. In realtà il vero anno comincia adesso. Siamo all'inizio dell'anno, l'anno spirituale e direzione dell'uomo, della volontà, comincia adesso. Michele, l'arcangelo fiammeggiante del pensare, entra dentro di noi. Una volta che noi respiriamo questa aria autunnale, e si stiamo avvicinando sempre di più, siamo proprio nel periodo dell'autunno in cui quest'aria è piena di spirito, è piena di occasioni di poter sfolgorare in idee meravigliose, in cambiamenti, in capacità di perdonare, in capacità di avvolgere, di comprendere e di volere capire l'altro. Tutte queste dotti sono forze micheliane. Micheliane perché? Perché Michele è un arcangelo solare. Michele è l'arcangelo del sole, quindi ciò che lui ci dà è un impulso assolutamente pieno di amore, pieno di capacità di volere comprendersi, perché la forza di Michele, la forza autunnale, fa paura, fa venire ansia, perché non la sopportiamo. Ma se invece nei nostri pensieri, mentre noi sottilmente respiriamo, sentiamo che il nostro pensiero è simile a un sottile respiro. Quando noi pensiamo è come se respirassimo il corpo di Michele. Pensate, quando noi ispiriamo in autunno, ispiriamo i pensieri dell'anima di Michele, quindi soffre in noi le sue intenzioni. Quali sono le intenzioni di Michele? L'intenzione di Michele è che la terra non sia più fatta di nazioni, ma esista soltanto una nazione, la terra di fraternità, quindi che tutto sia governato dall'amore e dalla fraternità. In realtà adesso è difficile vedere questo, però non ci preoccupiamo perché siamo ancora infanti, infanti, siamo ancora dei piccoli uomini. Quando cresceremo, e Michele sarà con noi, è con noi, perché tra l'altro in questo periodo, diciamo, storico, Steiner ci dice che dal 1879, e questo periodo dura circa 350 anni, governerà Michele. Cioè Michele è lo spirito arcangelico dell'Europa, non è soltanto lo spirito dell'autunno, ma è anche lo spirito che governa l'Europa. Quindi l'Europa deve rinascere, e rinascerà, ci sarà una sorta di nuovo rinascimento europeo, in cui diventeremo indipendenti come istituzione, smetteremo di avere una moneta unica, e la nostra moneta unica sarà l'amore, sarà la fraternità, e riusciremo a creare una comunità che farà da centro fra l'Oriente e l'Occidente, fra l'America e la Russia. È lo scopo dell'Europa, quello di essere la forza, la potenza micheliana che ha la parte orientale e la parte occidentale. So che fa ridere, perché invece adesso noi siamo immersi nella realtà, diciamo che non facciamo nessuna bilancia, siamo un po' posseduti da una forza occidentale, e questa forza occidentale ovviamente ci fa schierare contro l'Oriente. Allora, non è che l'Occidente è buono e l'Oriente è cattivo, o viceversa, che l'Occidente è cattivo, no, è che manca l'equilibrio. Noi dovremmo essere l'ago della bilancia in cui queste due forze stanno in equilibrio e ce le abbiamo le forze, abbiamo Michele Arcangelo che protegge questa missione. Quindi bisognerebbe avere il coraggio, perché senza coraggio non si fa nulla, quindi ci vuole il coraggio per cercare di svincolarsi da questa identificazione con una di queste superpotenze e fare in modo che noi esprimiamo la nostra potenza. Cioè, quella che sto facendo stasera non è una conferenza politica, io non mi interesso di geopolitica, anche se potrebbe sembrare, ma invece no. Io penso che l'intenzione di Michele sicuramente nei prossimi 100-150 anni si realizzerà. Quindi vedrete che l'Europa prenderà un'altra piega. E io ho tanta fiducia che questo accade, perché devono arrivare e stanno arrivando, sono già, ci sono già gli spiriti Micheliti, i bambini Micheliti hanno già, potremmo dire, 20 anni forse, ci sono già, e se ci fosse adesso l'ascolto, un ventenne dovrebbe sapere che in lui agisce, quella forza che cambierà l'Europa. E noi stiamo aspettandolo, noi forse non la vedremo, questa Europa cambiata, però arriverà nel nome di Michele Arcangelo. Ecco. Questo è legato all'autunno, ecco. Poi, se andiamo nella seconda fase dell'ispirazione planetaria, in cui tutto è dentro di noi, dentro alla Terra, la Terra ha preso in autunno tutte le forze e ci troviamo in inverno, in cui la Terra sembra che muoia, tutto muore, tutto secca, gli alberi non hanno più foglie, non ci sono più fiori, sembra che ci sia la morte, c'è lo scheletro del mondo. Invece no, lo spirito è dentro la Terra, c'è come una specie di ingravidamento, la Terra è gravida, la Terra sta per partorire, la Terra vuole partorire, infatti. Non a caso, il 25 dicembre, nella tradizione occidentale, nasce un bambino. Che cos'è questo bambino che nasce? È il bambino che poi troviamo a Pasqua che risorge. Perché, così come il bambino ingravide la Terra in inverno, che è il tempo di Gabriele, l'Arcangelo della Luna, Gabriele è questo spirito che avvolge con un manto di neve questo seme, questo semino dentro l'anima dell'uomo che potrà poi rinascere, se vuole, a risorgere, più che rinascere, si rinascere e risorgere quando arriverà la forza di Raffaele. Ecco, la forza di Raffaele arriva in primavera con l'equinozio di primavera che accade dopo il sostizio d'inverno di Gabriele. Ecco che lo spirito viene di nuovo emanato fuori, viene ispirato e si vedono i risultati. Fiori ovunque, tutto diventa meraviglioso, tutto rinasce ed è la rinascita della Terra così come anche noi possiamo rinascere perché adesso stiamo fortificandoci. Ecco, Raffaele che è lo spirito che opera su Mercurio è l'essere soprattutto che governa la primavera. Quindi l'espirazione di vita arriviamo poi in estate in cui siamo vuoti, cioè tutto lo spirito è uscito fuori dalla Terra e si trova lo ridoniamo, cioè tutto il lavoro che abbiamo fatto e che uno potrebbe dire ma tutte le cose che muoiono in realtà e dove vanno a finire? vanno a finire verso le stelle vengono come assorbite come se tutto ciò che marcisce sulla Terra sia un dono meraviglioso che gli dèi possono prendere perché è il loro nutrimento. Cioè in estate gli dèi prendono la vita e vedono che cosa ha fatto l'uomo sulla Terra cosa hanno fatto gli animali cosa hanno fatto le piante e tutto quello che è stata la vita terrestre ritorna nel cosmo così come prima il cosmo ha dato la vita e ha fatto in modo che nascesse e sfolgorasse e diventasse un'azione quotidiana durante la primavera ecco che poi piano piano è un'apparenza che tutto muoia che tutto secca perché tutto vaporizza tutto potremmo dire la soluzione si spiritualizza la Terra diventa si svuota perché lo spirito della Terra va verso il cosmo e gli dèi mangiano ecco è il grande banchetto degli dèi viene fatto appunto in estate ma ahimè se non abbiamo più lo spirito sulla Terra è un po' un problema perché significa che non siamo seguiti dagli dèi Steiner dice nel periodo estivo vi è uno spirito arcangelico che si chiama Uriere che ammonisce e ci dice attenzione perché siete senza spirito siete riserva qui dovete fare appello alle forze dell'io dovete assolutamente cercare di essere presenti a voi stessi e in agosto io Uriere mi faccio aiutare da Michele per inviarvi una forza che nel vostro sangue può assolutamente rinvigorirvi vi mando uno sciame meteorico che proviene da quella che una volta era un pianeta che è stato distrutto in tempi remotissimi che si trovava nella fascia degli asteroidi fra Marte e Giove questo pianeta queste meteore che si chiamano vengono chiamate anche in un certo modo queste perseidi vengono chiamate attraversano ciclicamente la Terra proprio a metà di agosto ecco queste sfere meteoriche entrano nella Terra e immettono sostanza cosmica ferro cosmico dentro la Terra tutto questo è una benedizione perché queste meteore che cadono dentro vanno a finire nel cuore dell'uomo nel sangue dell'uomo e noi possiamo come come si fa in omeopatia avviene un processo all'interno del nostro sangue in cui si il ferro cosmico il ferro siderio siderale prende presa dentro i nostri globuli rossi e noi ci fortifichiamo al punto che siamo come diventati pieni di ferro cosmico adesso abbiamo un sacco di ferro meteorico il quale crea come una colonna di ferro dentro di noi la nostra spina dorsale adesso è pervasa da ferro meteoreo e se potessimo guardarla assomiglia a una spada la spada l'essa l'abbiamo qua nella testa nella spina dorsale abbiamo questa spada di ferro meteorico è quella spada che simbolicamente Michele prende in mano in pugna perché è il momento di affrontare il drago che cos'è il drago dove lo troviamo il drago nelle prefigurazioni cosa rappresenta è la forza di Michele che appare diciamo nell'uomo e dona la possibilità di affrontare le prove della vita il drago è qualsiasi cosa produce in noi un attrito il drago non è soltanto la paura il confronto il drago è il denaro il drago è la potenza materialista è la dimenticanza di essere spiriti tutto ciò che in qualche modo attenta alla nostra individualità è il drago e questa spada diciamo questa spada di Michele questa spada di potremmo dire una spada di ferro meteorico ma è una spada che in realtà può sconfiggere lo spirito materialistico è la soluzione sia dell'Europa sia la soluzione di noi stessi che non siamo abbiamo dimenticato di essere spiriti umani ecco sarebbe bello immaginare che gli esseri umani possano avvolgere e sentire che i pensieri di Michele stanno diventando una realtà io con il mio lavoro di divulgazione attraverso il sito Unicornos cerco di fare questo lavoro ogni anno faccio delle iniziative e sempre di più in presenza perché io amo fare le cose in presenza e non dico che abborrisco farle diciamo online perché prima non si poteva fare altrimenti ed è anche un messaggio comodo affinché gli altri possano conoscere la realtà però non si può trasmettere questi impulsi attraverso un video perché è un conto incontrarci di persona è un conto farlo certo ci stanno abituando ci hanno abituato alla comodità quanto è comodo essere qui di fronte a un vilito Bellucci mi sta parlando non faccio nessuna fatica gli posso fare poi una pernacca che non mi sente posso stare con le gambe per aria o dove mi pare se però io lo incontrassi di persona Bellucci o sto dicendo Bellucci per dire una persona cioè fare un incontro quello che accade è un grande mistero perché esiste una legge che si chiama la legge di virginità e fraternità della conoscenza che accende nel cuore dei messaggi possibili soltanto se si è dal vivo quindi va bene incontrarsi e partecipare ai webinar ai seminari online però incontriamoci di persona creiamo comunità perché l'essere del futuro non sarà l'umanità del futuro non sarà qualcosa di robotico nessuno vuole diventare un robot dobbiamo cercare di creare sempre di più un senso di comunità e incontrarci per scambiarci la nostra umanità Michele è con noi più noi sentiremo in noi l'impulso solare perché noi siamo dei soli noi proveniamo dal sole gli Elohim sono esseri solari che ci hanno donato il loro spirito e nel nostro io vive lo spirito degli Elohim come spirito solare quindi noi vogliamo irraggiare irradiare d'amore ogni essere che vi è sulla terra e ogni essere che vi è nell'universo quindi non è una novità solo che ce la siamo dimenticati la luce brilla nelle tenebre e la tenebre non l'hanno compresa noi non stiamo tuttora capendo che noi vi è la luce vi è la luce del sole noi brilla questo pensiero che emaniamo che incontra Michele il quale è lo sguardo di Dio che è il volto di Dio è la nostra forza divina è una forza che proviene dal sole lasciamola liberare diventiamo un sole cioè siamo soli pensate che strani soli abbandonati ma siamo un sole quindi abbiamo una capacità di incendiare d'amore il mondo non soltanto di illuderci dobbiamo trovare fiducia dobbiamo immaginare che nell'altro uomo vi è uno spirito come vi è in noi e smettiamola di pensare che sulla terra non ci sono umani ma ci sono uomini senza io certo l'ha detto Steiner ma quando lo dice Steiner si riferisce al fatto che questi uomini senza io sono esseri che si sono incarnati perché noi gli abbiamo dato la possibilità attraverso tutti diciamo le diavolerie trasgeniche tutte le fecondazioni artificiali che vengono fatte entro nell'evoluzione terrestre degli esseri che non si sono mai incarnati prima che sono esseri elementari poveracci loro si fanno un'esperienza sulla terra si trovano completamente spaesati non sono dei demoni sono esseri che hanno trovato un corpo perché gliel'abbiamo dato noi e se noi forse smettessimo di usare la tecnologia in modo sbagliato forse questi esseri non verrebbero risucchiati dentro dei corpi ma siccome questi esseri sono molto rari nella maggior parte dei casi noi siamo umani e quando incontriamo un essere umano l'essere umano ha bisogno di essere amato e di essere riconosciuto come spirito ecco io vi auguro nel nome di Michele di poter trovare questa forza di sentire la volontà che sfreccia verso gli altri che ha incontrato gli altri che vince tutto e possa creare una comunità realmente fraterna abbracciando la terra in un unico in un grande incendio d'amore ecco ecco io ringrazio ringrazio focus 3.0 Anna Tamburini-Torre la nostra regina la regina dei piani alti Enrico Ballantini grande manager delle coscienze ecco grazie a tutti buon San Michele ricordiamoci di questa festa celebriamola appellandoci al fatto che siamo dei esseri solari e ci vediamo al più presto spero di vedervi di incontrarvi presto ciao a tutti buon San Michele a tutti grazie 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 a tutti